Siamo qui, borgata costiera, stiamo effettuando dei sopralluoghi, del doveroso farlo, quantomeno una volta al mese, perché noi abbiamo attenzionato questa borgata che è importantissima per la città di Mazzara del Vallo. Stiamo discerbando tutta costiera e stiamo verificando lo stato dell'arte del manto stradale, perché come ben sapete ad agosto qui ci sarà la festa del pane, che è un evento importante non soltanto per la città di Mazzara del Vallo e per la borgata costiera, ma anche per l'evoluzione dell'amministrazione Cristaldi a livello provinciale. Siamo stati anche all'interno della Guardia Medica, abbiamo scongiurato, se così si può dire, interagendo con il consigliere Foggia, a far sì che la Guardia Medica non venga chiusa. Ritengo che i cittadini di questa borgata debbano essere soddisfatti per l'impegno profuso dall'amministrazione Cristaldi e dai cittadini che si impegnano a far sì che questa borgata sia sempre pulita e soprattutto abbia un risultato ottimale per il turismo. E devo comunicare altresì che già è stato pubblicato un avviso pubblico per fare la disinfestazione, la direttizzazione, la deblattizzazione di tutta la città ed anche naturalmente la borgata costiera, quindi i cittadini di questa borgata devono stare tranquilli, credo che a giorni inizierà appunto la disinfestazione di questa bellissima borgata. Borgata costiera è un esempio di una buona e sana politica, ad esempio questo è uno scorcio che in questi anni abbiamo recuperato insieme all'amministrazione comunale, dove io mi sono fatto promotore e grazie al sindaco Sebano Buonanno e al sindaco Cristaldi siamo riusciti a recuperare dalle cenere questa piazza dei lavatoi. Detto questo, come possiamo dire, in questi otto anni abbiamo fatto veramente un grande lavoro. Oggi siamo qui comunque a vedere tutti i lavori che si stanno svolgendo per quanto riguarda la pulizia e la bonifica dell'intera borgata e come ha detto il vice sindaco, a presto ci sarà anche la disinfestazione, la deratizzazione. Noi ancora siamo distanti dalla Vesta del Pane, ma noi ogni anno, quelle 3-4 volte a borgata costiera comunque veniamo per cercare comunque di rendere la pulita. Sappiamo pure che in questi anni è aumentata tantissimo da visitatori borgata costiera, grazie all'impegno che abbiamo profuso. Non possiamo dire che noi abbiamo dimenticato le periferie. Dopo Mazzara 2 si sta pulendo borgata costiera. Sappiamo pure che per adesso e anche in opera, grazie anche all'acchietto di Cerribianco, stiamo donando una bellissima scultura che per la manifestazione della Vesta del Pane e della Pasta sarà inaugurata. Devo ringraziare tutte quelle attività commerciali che ti stanno spendendo, donando dei materiali per realizzare questa bellissima opera d'arte. Detto questo, in merito alla Guardia Medica, devo dire che devo ringraziare sia l'amministrazione comunale, ma devo ringraziare soprattutto il commissario dell'ASPE Bavetta che abbiamo comunque in questo periodo intercorso dei colloqui facendo capire che borgata costiera è un'isola felice e non era una zona ad alto rischio. Sappiamo che i fatti della Sicilia portavano a fare chiudere quasi tutte le guardie mediche delle periferie dettate comunque dall'assessorato regionale alla salute. Grazie all'impegno sottoscritto anche della missione comunale siamo riusciti comunque a far riflettere il commissario dell'ASPE con tutta la sua equip ed è stata scongiolata fortunatamente questa chiusura. Quindi i borghagiani devono essere orgogliosi che la Guardia Medica ancora garanterà il servizio sanitario in questa borgata. Detto questo ci stiamo preparando per la prossima festività che sarà il 5, 6 e 7 agosto. Naturalmente ormai è un evento che la città aspetta come tanti altri eventi ma questo ormai è un evento che si è imposto in tutto il territorio, in tutta la provincia. Abbiamo sempre il padrocino dell'assemblea regionale e questo significa che la regione Sicilia comunque attenziona questa manifestazione in maniera importante perché si capisce veramente la valenza e lo spessore. Sono convinto che ci sarà anche il padrocino dell'amministrazione comunale perché è un evento che comunque ha voluto fortemente anche l'amministrazione Cristaldi. Al mio parere è stata un'idea geniale, un'idea geniale che va sicuramente migliorata e quest'anno sono certo che supereremo anche le aspettative. Ci tengo a precisare che noi abbiamo la politica dei fatti e non la politica delle parole. Noi ci limitiamo a questo perché l'obiettivo è quello sicuramente di dare amore a questa città e attraverso anche questa borgata ma attraverso anche il recupero delle periferie lo stiamo dimostrando. Borgata Costiera ne è l'esempio.